Bene accorti dalla parola di Dio. Nel celebrare la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, l'Evangelista Luca, raccontandoci il suo incontro personale con Dio, ha cercato in un modo molto sintetico di raccontarci non soltanto, credo, l'avvenimento, ciò che succede in casa della Vergine Maria, ma anche e soprattutto, credo, le sue emozioni più profonde. Ha voluto raccontarci l'evento, ma ci ha raccontato anche del cuore di Maria. Credo che una delle prime sensazioni sicuramente possa essere stata il dubbio e la sorpresa. Maria non si aspetta che Dio la inviti a diventare la madre di suo figlio. Così come tante altre giovani del suo tempo, sì, conosceva la promessa di Dio fatta ad Israele che sul trono di Davide si sarebbe seduto per sempre suo figlio, ma sicuramente non pensava che toccasse a sé, non pensava che Dio andasse a scegliere una ragazza che non fa rumore, una ragazza normale, una vita vissuta nella consuetudine dei giorni che passano. Eppure Dio, dicevo, la coinvolge in un modo così profondo, così nuovo, che Maria davvero rimane sorpresa, rimane sbalordita. Dubbio e sorpresa. E tra l'altro è questa anche una sorpresa che disorienta la Vergine Maria. Luca ne parla in maniera molto chiara, così come disorienterebbe qualsiasi persona di fronte a un'esperienza inattesa, una esperienza non programmata. E la sorpresa, così come capita alla Vergine, genera il dubbio. Ma possibile? Davvero è per me tutto questo? Qui poi nasce nel dubbio la domanda e la domanda diventa ricerca, una ricerca che comunque richiede del tempo. Essere sorpresi e quindi farsi mille domande e coltivare anche quelli che possono essere gli interrogativi profondi è segno di una vera umanità. Solo l'uomo fa questo cammino, a questo processo davanti a quello che è lo sbalordimento, davanti a quella che è la sorpresa. E quindi non si tratta assolutamente di mancanza di fede. Il Vangelo di questa seconda domenica del tempo di avvento ben si associa a quella che è la solennità dell'immacolata concezione perché anche in questo caso Luca ci presenta un luogo, il deserto, un po' come succede per una dimora, quella di Maria. Ci presenta un personaggio che nel Vangelo di questa domenica è Giovanni il Battista, mentre nella festa dell'immacolata è appunto Maria stessa. E poi vi è la parola. La parola, dice il Vangelo di Luca di questa seconda domenica di avvento, scese su Giovanni il Battista, un po' come scende su Maria nella festa dell'immacolata concezione. Quindi scende, lo Spirito Santo ti adombrerà, ti riempierà. La parola, la presenza di Dio sarà per te motivo di completa novità, rivoluzionamento totale. Il quasi nulla, potremmo dire, il quasi mancanza di quello che può essere la novità, basta però a sconvolgere la storia, così come dicevo accade per Giovanni perché accade anche per Maria. Domenica scorsa, nella prima domenica di avvento, dicevo che Cristo ci chiede di alzare lo sguardo, di porre in alto la fronte, proprio per evitare di lamentarci, evitare di guardare sempre con lo sguardo a terra. Quindi occorre, dicevo domenica scorsa, nell'invito che Gesù ci dà, di guardare al di là, di guardare oltre, di guardare addirittura altrove, non dove siamo soliti guardare. E allora l'importante è arrivare al Natale con un cuore un po' più leggero, senza lasciarlo appesantire dalle dissipazioni, dallo stordimento e ancora più dalla preoccupazione che la vita, anche legittima, ma che ci appesantiscono, non ci lasciano camminare sereni verso il Cristo. E allora prima di continuare la nostra narrazione e anche la nostra meditazione, facciamoci per un attimo, pellegrini nella parola, ascoltando il Vangelo di Luca in questa seconda domenica di avvento. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca di Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorreva tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». C'è un incipit molto particolare, molto bello in questo Vangelo di Luca, in cui si dice «Avvenne che la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto». Dopo che Luca ha presentato quella sfilza di nomi, di personaggi storici, presenta invece un avvenimento, avvenne che si compie, si porta a compimento che la parola di Dio scende su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Un avvenimento che, apparentemente semplice, è collocato da Luca non solo all'interno della storia ebraica, Giovanni fa parte della storia di Israele, ma anche all'interno della storia universale. I personaggi che sono stati richiamati prima dall'Evangelista Luca ci dicono proprio che questo avvenimento accade nella storia, nella vita anche di altri uomini. Secondo la Bibbia e quindi secondo la fede, l'arrivo della parola di Dio comporta sempre svolte radicali. Però è anche vero che i risvolti della parola di Dio sono sempre all'inizio visibili soltanto agli uomini di fede, mentre gli altri uomini non se ne accorgono, anzi potrei quasi dire il mondo non si accorge affatto di quello che sta accadendo. I grandi personaggi, dicevo che l'Evangelista Luca ha elencato, non hanno dato importanza alla predicazione di Giovanni nel deserto e neppure hanno dato importanza a quelle che sono state le folle che Giovanni attraverso la sua predicazione e quindi attraverso il suo battesimo venivano a lui. Già in questo credo che ci sia da imparare, soprattutto per noi discepoli di Gesù, ci insegna questo avvenimento a puntare gli occhi sui germi ricchi di sviluppo, su quello che in effetti sta nascendo, piuttosto che sulle cose clamorose che sono già morte. qui l'esempio che potrei farvi per ancora di più aiutarvi ad entrare nel testo.